Questo è un istituto universitario, quindi sempre molto impegnato dal punto di vista scientifico. Il centro è nato perché da tantissimi anni io mi sono occupata di patologia dei genitali, ricostruzione vaginale, ricostruzione nelle malformazioni, ricostruzione della vulva nei tumori. Abbiamo stretto dei rapporti scientifici con l'Università di Ghent in Belgio e Ghent è uno dei centri più importanti per il trattamento, per gli interventi di riconversione del sesso. Quindi nasce da una collaborazione scientifica ed immediatamente ci sono stati i pazienti perché evidentemente era un bisogno. Da noi viene un po' il sud Italia, da Roma in giù, Calabria, Puglia e Sicilia ovviamente. Noi abbiamo iniziato come chirurgia plastica e io poi ho sentito immediatamente il bisogno invece di avere l'approccio multidisciplinare. Quindi abbiamo creato poi questo gruppo della tutela umanitaria dei pazienti transessuali, per cui ci sono endocrinologi, psicologi, ginecologo, fisioterapista. Abbiamo anche l'infermiere dedicato che accompagna i pazienti per evitare che si creino delle situazioni per cui quando ancora non c'è il cambio di identità, cosa che può capitare, si vengono chiamati con il nome sbagliato, si creino situazioni imbarazzanti nelle sale d'attesa. Ci vogliono questo tipo di attenzioni. Partiti con il primo intervento immediatamente si è creata una lista d'attesa. Il nostro ritmo è stato quello dai 13 ai 20 interventi all'anno. Nella lista d'attesa ci sono una quarantina di pazienti. La prima grossa distinzione è tra gli interventi di riassegnazione del sesso, vagginoplastica per i pazienti di sesso maschile, che sono la maggioranza, per cui in questi pazienti si fa la castrazione, l'amputazione del pene e la castrazione della vagina. Poi ci sono, al contrario, le pazienti di sesso femminile che desiderano riaffermare la loro sessualità diventando, la loro personalità diventando maschi. E questi richiedono intervento di mastectomia e falloplastica. Un percorso molto più complesso e meno soddisfacente dal punto di vista del risultato. E poi ci sono quegli interventi di conferma di genere, quelli che si fanno sul torace e quelli che si fanno sul volto, che sono gli interventi di femminilizzazione o mascolinizzazione. Per esempio, nei soggetti che nascono biologicamente maschi, c'è l'asportazione del pomo di Adamo. La chirurgia non è sartoria, anche se ha alcuni punti in comune, alcuni aspetti in comune, il taglio e cusci, assolutamente siamo sempre carighello, pennarello, prendiamo misure, tagliamo e cusciamo. Ma non è sartoria perché non è che tagliamo stoffa, noi tagliamo tessuti viventi che poi reagiscono con un processo di cicatrizzazione che è un processo attivo e con tutti i processi biologici che includono le complicanze, emorragie, infezioni, sieromi. Mettiamo da parte le complicanze e parliamo degli interventi perfetti. Chi fa questo tipo di interventi deve pensare che non è che avrà una vagina, avrà una cavità che facciamo artificialmente tra vescica e fretto che verrà foderata con la cute del pene. Non è una vagina. La sensibilità erogena che sta per buona parte nel glande, il glande viene tagliato, ne viene conservato un pezzo piccolo piccolo che sarà a due centimetri quadrati, che viene modellato a fare un neoclitoride. Non è un clitoride, è un pezzettino di glande ripiegato con la cicatrice che viene messo nel posto del clitoride e che mantiene quella sensibilità ridotta. Quel consenso deve essere informato e deve essere informato veramente. ovviamente, cioè la vulva non è una vulva, è la pelle dello scroto che viene ripiegata, modellata e che somiglia a una vulva. Che poi il risultato finale a volte è bellissimo e non si fa distinzione. A me è capitata una paziente in cui il ginecologo non si è accorto. Ed è stata lei a dover dire, no, un minuto, io ho avuto un intervento. Per cui il risultato può a volte essere veramente spettacolare, più o meno, perché appunto è chirurgia. Quindi la soddisfazione deriva, deriva anzitutto dalla preparazione psicologica. Il desiderio di togliersi il pene. È proprio questo desiderio. Per cui comunque glielo togli, il paziente respira. Capisce? No, no, sto meglio. Poi viene dalla qualità del risultato finale dell'intervento. Sa la cosa che mi ha colpito di più? Che le pazienti che mettono il fiocco rosa dietro la porta. Che quelle che mi chiamano mamma, lei era mia mamma, perché mi ha fatto nascere di nuovo. Questa è la cosa che mi ha colpito di più, perché effettivamente quando il percorso è giusto, quando è, è proprio una rinascita, è veramente una rinascita. Grazie.